Musica Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale Io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Saints and a Soldier Soul E ragazzi in questo episodio concluderemo quasi sicuramente la seconda saga Ovvero la saga di Asgard Quindi ragazzi vi ricordo di lasciare un bel mi piace Poiché solo a 60 mi piace arriva il prossimo episodio Quindi iniziamo subito con questo episodio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti